Buonasera Gennaro Volpe, primo quarto d'ora per l'Entella, semplicemente perfetto, tatticamente avete messo in difficoltà il Pescara, poi piano piano è cambiato qualcosa e nel secondo tempo è cambiata la partita. Sicuramente abbiamo fatto un grande approccio, siamo andati anche meritatamente in vantaggio, poi paradossalmente dopo il gol abbiamo un po' allentato la presa, forse non pensando a gestire, ma in queste partite qua c'è poco da gestire, abbiamo tenuto poco il pallone, abbiamo lanciato molto, ci siamo un po' snaturati, non siamo riusciti poi ad allentare un po' la pressione che poi il Pescara ci ha fatto, perché il Pescara è una squadra che se la lasci giocare è una squadra che ha qualità, che ti può mettere in grossa difficoltà. A di inizio del secondo tempo ha tirato fuori uno dei due trequartisti inserendo Zamparo, quindi un'altra punta, però poi si è un po' abbassata l'Entella. Ci siamo un po' abbassati, i campi sono stati fatti in virtù di non perfette condizioni fisiche, purtroppo Meazzi viene da un infortunio dove è stato fuori quasi due mesi e non aveva sicuramente 90 minuti. Corbari ha avuto un piccolo fastidio, l'ho dovuto sostituire, quindi siamo ridotti un po' all'osso. Spero di sì, precauzionalmente ho preferito sostituirlo visto che poi fra tre giorni si rigioca, quindi penso che alla fine si possa recuperare, sicuramente avremo tante assenze, purtroppo non siamo fortunati in questo perché la mancanza di molte alternative, perché tra squalificati e infortunati avremo, penso, più di dieci giocatori fuori. Le chiedo un'ultima cosa prima di una domanda da studio. Con l'espulsione di Lescano il Pescara aveva appena acciuffato la parità, l'Entella però lì non è riuscita a ritornare a essere dominante, anzi il Pescara sembrava corresse meglio. Condizione atletica, punto di domanda, o qualcosa di tanto? Non lo so, voglio rivedere la partita, sicuramente non abbiamo sfruttato la superità numerica, paradossalmente con l'uomo in più ci siamo abbassati, anche se l'input che avevo dato era ben diverso, però abbiamo subito un po' questa pressione del Pescara, peccato perché poi anche gli episodi non ci hanno girato molto bene, perché abbiamo preso due pali, uno di Meazzi sull'1-0, che ovviamente questi episodi qui determinano poi l'andamento del risultato, però insomma sapevamo che nulla è compromesso, che nulla cambia perché queste partite durano 180 minuti e non ci proveremo fino alla fine. Studio per una domanda al tecnico della Virtus Entella, Volpe. Che farà naturalmente Fabio. No, io batto sempre su questo tasto e vorrei avere la conferma del mister che ha fatto una carriera importante, vedendo Raffià dal campo, che tipo di giocatore pensi che sia? Un giocatore che può fare la Serie A? Io credo di sì, o comunque una carriera importante? Chiede Fabio Ferraresi, lei che è stato un grande giocatore, vedere Raffià in campo che si è fatto, un giocatore che può fare la Serie A, aggiungo una cosa io alla domanda di Ferraresi, quando al 93esimo le è passato davanti in mezzo a otto suoi giocatori, cosa ha pensato? Mi sono fatto il segno della croce, Raffià penso che sia un giocatore, è un extraterrestre in questa categoria, non so nemmeno cosa ci faccio in questa categoria, sicuramente un giocatore che può fare due categorie sopra. La Serie A? Sì, assolutamente, un giocatore di una qualità, di una fisicità, di una forza incredibile.